Channel City incontra Federico Carozzi, responsabile della distribuzione di Lenovo Italia. Qui a Inground Showcase cosa portate, cosa presenta Lenovo? Qui a Showcase Lenovo sta presentando tutta la sua offerta commerciale, in particolar modo sui prodotti professionali, visto che ci stiamo rivolgendo al mercato dei dealer e della distribuzione, partendo dai notebook, passando attraverso i desktop, fino ad arrivare poi dopo anche al server e allo storage e alle Wall Station, sia che siano Wall Station fisse e Wall Station mobile. Abbiamo anche dei prodotti della linea consumer, perché comunque i nostri rivenditori ci richiedono anche i prodotti della linea consumer, ma il nostro focus particolare rimane sulla gamma professionale. Vi presentate anche la linea di prodotti multimod, vediamo in particolare qualche caratteristica e anche le peculiarità principali. Sì, allora, Lenovo sta investendo tantissimo in quello che vede come mercato del PC Plus, quindi non solamente i PC tradizionali, quindi i formfactor tradizionali sia notebook che desktop, ma anche formati nuovi, che appunto noi abbiamo chiamato multimode, che passano per esempio per il classico tablet, fino ad arrivare a prodotti convertibili, quindi prodotti che ruotano e diventano poi dopo dei tablet, fino a prodotti detachable, quindi con la possibilità di staccare completamente lo schermo, quindi di utilizzarlo sia in modalità notebook che in modalità tablet, o a prodotti anche che ruotano completamente a 360 gradi, come per esempio il nuovo ThinkPad Yoga, che è il prodotto nuovo che appunto presentiamo e che sarà disponibile sul mercato tra pochi mesi. Qui vedete alcuni degli esempi di questi prodotti che appunto sono una dimostrazione della capacità che abbiamo nel portare innovazione sul mercato, tutti i touch e tutti disponibili con i nuovi sistemi operativi Windows 8.